solo 200 metri dal walking street c'è la pista dei go kart andremo a vedere oggi easy kart.net ricordiamoci andiamo a vedere subito questa sera perché anche quello non lo voglio fare l'ultima volta che sono andato sul go kart è stato dal Atlantic City iniziamo a vedere subito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti